Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io ve l'avevo detto, questo Lecce è pericoloso, è una squadra non piscatole, è una squadra che fa giocare male l'avversario, è adatto recuperare i miei video vecchi, io l'avevo detto, continuo a dirlo e lo continuo a ribadire, ma ad oggi è una certezza questo Lecce, è una certezza di questo campionato E ragazzi vi dirò di più, il primo tempo del Lecce mi ha emozionato, mi ha emozionato per come ha giocato, mi ha emozionato il tifo che facevano i tifosi del Lecce a Via del Mare, è stato emozionante il primo tempo e mi dispiace, credetemi non per una questione di punti che il Milan adesso con questo pareggio mette un punto Il musetto come direbbe Allegri davanti alla Juve, ma mi dispiace perché per quello che ha fatto il Lecce nel primo tempo avrei voluto che il Lecce vincesse, perché è veramente stato un qualcosa di emozionante Poi ovviamente ha i suoi limiti, però ragazzi il Lecce è una squadra vera, il Lecce mi ha emozionato, il Lecce merita rispetto E voglio subito spendere due parole su un giocatore che a me piace veramente tanto, del Lecce Un giocatore che oggi secondo me ha fatto la differenza, che è Yulmand, giocatore danese Ha fatto a mio avviso una grande partita e non è la prima volta ragazzi che io vedo Yulmand E penso che Yulmand è un gran bel giocatorino, è un gran bel giocatorino Oggi anche su 2-2 ha recuperato un paio di palloni lì al limite dell'aria Facendo ammonire per esempio Ben Nasser, direi che fosse in quel contrasto lì Cioè è un giocatore Veramente importante, ma Lecce ha parecchi giocatori interessanti A Gonzalez, che è un giocatore interessante A Bamba A Banda Sì Bamba è l'NBA A Banda ragazzi che A me piace tanto Non a caso l'ho preso anche a fata calcio L'avevo preso a fata calcio Ma è un giocatore rapido, ve l'ho già detto, mi ricorda molto Bogat Ed è entrato molto bene oggi in campo E sono contento perché da lui mi aspetto tanto A Baschirotto Ragazzi ma cosa gli vogliamo dire a Baschirotto? Cioè nel primo tempo è stato perfetto Perfetto Il Lecce ha fatto un primo tempo di intensità Di velocità Veramente incredibile Ma veramente incredibile E lo sottolineo Lo sottolineo Perché queste squadre Che quando arrivano da Bino Più le volte le diamo già per spacciata Ah retrocedo Dimostrano Dimostrano che in Serie A ci possono stare benissimo Dimostrano Che sanno reggere Possono reggere un salto dalla BIA E dimostrano Di avere lungimiranza Perché vanno a prendere dei giocatori Importanti Importanti ragazzi Importanti Cioè anche un TT Un TT lì dietro ragazzi Si fa sentire come Si fa sentire come Io l'ho già detto Penso che il Lecce avrebbe meritato Qualche punto in più in classifica Ma è una squadra È una squadra Di assoluto livello Mi è piaciuto anche Malè quando è entrato Il Lecce tra l'altro Ha avuto più volte la possibilità Di fare anche un goletto in più Se fossero state sfruttate meglio a certe occasioni Quindi ragazzi Il primo tempo del Lecce È qualcosa di straordinario Io voglio concentrarmi su quello Perché poi nel secondo è normale Che ci sia un calo Non sarebbero probabilmente stati umani E Quando hai un calo Il Milan Mi chiama maggior qualità Ovviamente Può Sfruttare queste Queste mancanze Qualche spazio in più Qualche errore in più Qualche imprecisione in più Quindi Il Milan è stato bravo Dal punto di vista Carriatteriale Perché comunque andare sotto 2-0 Dopo che si è uscito in Coppa Italia Comunque col Torino Dopo i supplementari Questo comunque un po' Ha inciso Sicuramente Sicuramente ragazzi Li fa onore al Milan Però io ripeto La partita che ha fatto il Lecce Soprattutto nel primo tempo È Da applausi E per me L'arbitro è venuto fischiare lì Fine del 45esimo Fine primo tempo Tutti a casa Per meriti No veramente Poi ripeto Ovviamente le partite Durano 90 minuti E qui Voglio parlare del Milan Appunto È stato bravo A venire fuori A Trovare il gol con le Auc Nel primo tempo Non si era mai visto Arginato molto bene Dalla difesa del Lecce Ricordo la spallata Di Baschirotto Che ha spostato Leao Praticamente Di 27 metri Però Il Milan Nel primo tempo Padre che ha preso il primo gol Che è una roba imbarazzante E ringrazio Teo Hernandez Per l'autogol Visto che ce l'ha fatta a calcio Grande Teo Sempre così Sempre così Ovviamente titolare Per Giuda Ma Tralasciamo Il Milan Nel primo tempo Aveva avuto Praticamente una sola occasione Direi che un po' Vega Non sfruttata Poi Il nulla E nel secondo tempo È venuta fuori Con quelli che sono I suoi giocatori Principali Sono contento Che abbia fatto Gol Calabria Perché un giocatore Secondo me Spesso volentieri Sottovalutato Io mi ricordo Che gli anni scorsi Io dicevo Secondo me Calabria è un giocatore Molto interessante E veniva massacrato Quindi sono contento Che abbia trovato Gol Del 2 a 2 E Che stia avendo Una crescita Di un certo tipo Ho trovato Benasser Sul pezzo Ha fatto una giocata Ragazzi Quando ha Ha mandato in porta Messias Che poi ha colpito il palo Strepitosa Strepitosa Benasser È un giocatore vero Oggi sicuramente Mancato Tonali Senza dubbio Senza dubbio Però secondo me Pobega ha fatto una bella partita Ha caratteristiche differenti Rispetto a Tonali Senza dubbio Secondo me Però Pobega non ha fatto male Secondo me ha fatto una buona partita Tutto sommato Niente di eclatante Cioè capiamoci Niente di eclatante Però Secondo me ha fatto una discreta Una discreta partita Ecco Il peggiore Probabilmente oggi in capo Teo Hernandez Penso che te oggi Niente Niente E quindi secondo me Calabria Benasser Il solito Giroud Che comunque si sbatte Hanno Tomori con un salvataggio importante Hanno tenuto comunque A galla Il Milan Comunque l'hanno tenuto a galla Quello che mi preoccupa del Milan È che in una Evidente Un momento Di evidente difficoltà E Vi dirò di più Il Milan oggi Ha molto spesso Lanciato A cercare le sponde Di Giroud A quando ha inserito Origi O Riky che sia Anche lui Per cercare Di arrivare di testo A cercare delle sponde E quant'altro Quindi il gioco aereo E quando il Milan Inizia a alzare il pallone In questa maniera È perché è una squadra di difficoltà Perché il Milan è una squadra Che comunque Gioca a pala terra E E quindi questo mi preoccupa Anche perché Aspettate che Controllo Ma il Milan resta imbattuta Nelle ultime cinque Esatto Però viene Dal pareggio con la Roma Che ci ricordiamo tutti Cioè Il Milan Sta buttando via dei punti Il Milan sta buttando via dei punti Perché Per quanto l'ecce sia Mi abbia emozionato Per quanto l'ecce sia Squadra vera Il Milan doveva andare oggi A l'ecce e vincere Ragazzi Se vuoi vincere il campionato Devi andare a l'ecce e vincere C'è poco C'è poco da stare a dire E questo dimostra Qui apro e chiudo una piccola parentesi Che quelli che parlano Ma la Juve Aveva preso zero gol Dal l'ecce Dal l'udinese Il Milan ne ha presi due oggi E le è andate ancora bene E le è andate ancora bene I campioni d'Italia Sono andati a l'ecce E ne hanno presi due Così Giusto per Per fare questo inciso E quindi il Milan È ancora Diciamo imbattuto Nelle ultime cinque Però sta perdendo dei punti Il Lecce Nelle ultime cinque Tre vittorie Due pareggi Quindi tanta tanta roba Il pareggio con lo Spezia Secondo me è un peccato Però ragazzi È un po' è un po' Trefezza Gli ho visto tirare Una punizione Cercare una punizione Di collo esterno E lui con quella punizione Se non ricordo male Era sul 2 a 1 Lui con quella punizione Avrebbe potuto fare il 3 a 1 E chiudere la partita Ha cercato un collo esterno Sul lato di Tatarusano Che ragazzi Ne viene uno Su Su Mille Ok Strefezza In quei momenti lì Non cercare di fare fenomeno Tira sta punizione In un'altra maniera Tira la giro sopra la barriera Tenta la giro sotto la barriera Tenta la giro sul portiere Sul lato del portiere Tira piuttosto di collo Se proprio vuoi tirare sul lato Anche del portiere Non a giro Però Collo esterno A cercare di crociare i pali Dai E poi così Lecce ha perso 3 punti Ha perso i 3 punti Ne ha guadagnato 1 E non 3 Però ripeto A parte questa Quest'inciso ragazzi Tanti tanti complimenti a Lecce E Pioli invece Deve lavorare assolutamente Ma io penso anche proprio Sulla testa dei suoi ragazzi Perché a me danno la sensazione Di non esserci tanto di testa E Il più evidente di tutti A me sembra Teo Hernandez A me sembra un giocatore Irriconoscibile Rispetto alle passate stagioni In questo momento Mi sembra Faccia un po' di fatica Mi sembra Sempre faccia il compitino Cioè io Non lo sto più vedendo Dominante Come lo vedevo Gli anni scorsi E questo lo deve Lo deve far riflettere E deve far riflettere Mila E deve far riflettere Pioli Io Ragazzi Veramente Cerco di portarvi Le mie emozioni Cerco di portarvi Il calcio Qui sul mio canale E Spero vi arrivi Un forte abbraccio Mi evite a scrivere il canale Diffonete il verbo Dai ragazzi Abbiamo 500 Dai Ci vediamo molto presto Ciao Buon weekend Buon sabato Ci vediamo domenica Ciao